Ciao GSTipster oggi vediamo come creare una mappa di un parco utilizzeremo come base questa mappa di Strava se non conoscete Strava è un'applicazione che va molto di moda attualmente e ci permette di tracciare i nostri percorsi o di corsa o in bicicletta e lo Strava Lab ha creato questa mappa che si chiama Hitmap dove non possiamo vedere i percorsi in bicicletta o a piedi oppure entrambi per creare una mappa di un parco ho deciso di prendere dei punti delle fontanelle quindi questi punti li tiriamo fuori da OpenStreetMap questi punti li andremo ad associare delle icone prendendo le icone da non project poi dal geoportale della regione Lombardia scaricheremo il nuovo confine dell'area protetta e poi vediamo di montare tutto con QGIS quindi partiamo partiamo dall'area protetta quindi quando andate sul geoportale qui potete trovare il catalogo dei dati noi andiamo a cercare le aree protette ho cercato qui perché ho ricevuto un'email che è stato aggiornato appunto questo confine della riserva naturale istituita nel 2016 a qui guarda ok scarichiamo il dato con questo pulsante vi si apre questa schermata e voi potete scaricare questa regione Lombardia l'ho messo in una cartella poi vi condivido tutta questa cartella tutorial icone aree protette strava l'ho messo in una cartella ad esempio qui adesso ho creato materiale poi ci creò una cartella elaborazioni e una cartella come al solito QGIS e poi anche la cartella web in materiale ho scaricato aree protette Lombardia ho tutte queste questi shapefile andiamo a caricarli subito in QGIS poi in QGIS quei file li li carichiamo da qua aggiungi vector layer browse vado in tutorial materiale qua se vi da fastidio vederli tutti così andate qui sotto e selezionate esri shapefile carichiamoli tutti e poi andiamo a vedere cosa ci serve ok questo qua è tutte le aree protette della regione Lombardia carichiamo come mappa di base OpenStreetMap questo è il plugin in QGIS in QMAP SERVICE lui va a metterlo sotto dove è arrivare il garden utilizziamo MMQGIS per fare il search andiamo qui e selezioniamo Google map manerba dovrebbe bastare no come si chiama come si chiama manerba dei garda ritorniamo qua ok ho fatto un errore riapriamo search google map guarda pick guarda ok andiamo su lui praticamente fa lo zoom il pan quindi se vogliamo fare lo zoom dobbiamo zoomare prima fare done ok non ho capito perché non ho trovato search google map manerba della parda ok non gli piace proviamo a vedere se lo trova con open street map manerba della guarda ok perfetto con open street map funziona tutto probabilmente c'è qualche problema con google map ok questa qua è la nuovo confine della riserva regionale e poi sotto c'è un parco locale di interesse comunale quindi quelli che ci interessano tiriamo su a questo sicuramente zona in protezione speciale non ne vedo nella zona quindi possiamo eliminarlo ok adesso ho fatto lo zoom e invece di fare il tasto destro rimuovi mi ha preso subito questo primo menu per tornare indietro allo zoom precedente si schiaccia questo pulsante qua ok quindi facciamo tasto destro quindi andiamo un po' indietro perchè magari c'è qualcosa di interessante sito importanza comunitaria ce n'è uno la sopra quindi magari possiamo anche tenerlo parchi nazionali questo qua lo otteniamo parchi naturali mille lo rimuoviamo questo lo otteniamo monumenti naturali ok questo qua dentro no non è compreso qua dentro quindi teniamo anche questo perfetto così per avere un inquadramento per aver guardato un po' per aver guardato un po'